Nel 2010, nel tempo libero, più di 750.000 abruzzesi non hanno nemmeno aperto un libro. In più, il 12% delle famiglie dentro casa non ha alcun volume. Mentre a livello nazionale il numero dei lettori e dei compratori di libri è in aumento, con 4 milioni e mezzo di nuovi lettori in più rispetto al 2009, l'Abruzzo fa un bel passo indietro e scivola al quindicesimo posto nella classifica regionale. A rivelarlo una nostra ricerca sulla base dei dati ISTAT relativi allo scorso anno, l'analisi prende in considerazione la popolazione sopra i 6 anni, che nella nostra regione supera la quota 1.270.000. Se nella penisola quasi la metà delle persone, il 46,8%, ha letto almeno un libro, in Abruzzo la quota dei lettori sfiora appena il 40%, ovvero 520.000 persone. Tra loro, 280.000 hanno letto al massimo 3 libri, 123.000 sono arrivati a 6 volumi, 57.000 a 11.000. I veri lettori, quelli che legano mediamente un libro al mese, sono 48.000, ossia un scarso 4,5% di tutta la popolazione regionale. La ricerca svela anche altri particolari interessanti. Solo un quarto delle famiglie abruzzesi possiede più di 100 libri. Il 14,8% ne ha meno di 25 volumi, il 17,7% intorno ai 10 libri e il 12% non ha, pensate, neanche un libro. Da pensare poi che la capacità di lettura dei bambini è fortemente influenzata sia dalla presenza di molti libri in casa, sia dall'esempio positivo dei genitori che leggono. Con il 60% della popolazione che non legge alcun libro, è una fetta di famiglie che non compra e non possiede libri, tra le più alte in tutta Italia, ottava su 22, non sorprende che tra i bambini abruzzesi e quelli di altre regioni del nord del paese ci sono dislivelli di lettura che superano il 25%. Ci sono crimini peggiori del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli, sosteneva il poeta russo Yosif Brodsky, una bella, seppur amara, citazione che calza a pennello l'abruzzo.